ciao grazie da questa sta registrando si grazie una gustionante non riscaldate sto seggiole quindi sicuro che stia registrando allora siamo di nuovo sulla seggiovia di sanpeire la seconda una graffer degli anni 90 dopo magari se vuoi stare più comodo alla discesa prendiamo una ccm ma guarda la evidentemente oggi hanno fatto un concerto chiara vai Questa qui dura ancora di più Dura come la moro Questa seggiovia qui più o meno E' lunga così la moro No però la moro va più veloce E' più lunga però va più veloce Mi sembra di più veloce Più o meno Mi sembra di più veloce Chissà che poi zè quello lassù Mi sembra di più veloce Non è uscita Mi piacerebbe tanto prendere una cestovia o comunque una cabinovia ammorsamento fisso Ma cestovia Beh la più vicina sarebbe Montecamino A Europa Provincia di Biella Sì Poi a me piacerebbe prendere la Monte Capanne dell'Isola d'Elba Sì Poi ci sarebbe la Pian dei Fiacconi vicino a Canazzei Al Passo Fedaia Al Passo Fedaia Perché non l'abbiamo presa Perché la Pian dei Fiacconi E' scollegata da tutti gli altri comprensori Serve delle piste da sci Ma non è collegata Ci sarebbe un progetto Non lo so C'è scritto Pegna Bisognerebbe chiedere bene Passo Fedaia Comunque Da anni dicono che vogliono Costruire Una cabinovia Con intermedia All'arrivo della cestovia attuale Per farla arrivare più in su E collegarla con la marmolada Allora E' dopo Alba Non so bene dove sia Non so bene dove sia Devonirebbe informarsi Poi ci informiamo πIN Non so bene Grazie a tutti. 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 Ecco, siamo arrivati. Grazie a tutti. 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 Ecco lì siamo arrivati. Abusivi. 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 Non glielo fare fare fare. Siamo arrivati. Sì. Arrivederci e al prossimo impianto.